Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo video reaction psicologico a Temptation Island Siamo nel quarto episodio e mi raccomando guardate il falò di confronto tra Alessia e Lino perché è stato veramente epico Ve lo lascio qui sotto in descrizione, basta cliccare su altro, c'è il link e lo andate a guardare, lasciatevi pure un like perché è veramente fenomenale E se arriviamo per assurdo, non si sa mai, a 200 like su questo video faccio veramente il prossimo falò di confronto stratosferico, veramente, veramente ve lo prometto Come da vostro consiglio oggi reagirò guardando e interagendo con voi in tempo reale Non mi piace tanto il fatto che voi dobbiate solo ascoltare, magari invece è solo una cosa mia, quindi fatemi sapere anche questo Banda alle ciance, sigla e cominciamo subito Sentiamo Filippo che cosa ha da dire Passiamo al racconto del percorso di un'altra coppia che sta incontrando delle forti turbulenze, quella formata da Jenny e Tony Andiamo nel villaggio dei fidanzati per vedere un video che vedrà Tony, sono veramente molto curioso, ovviamente io la puntata non mi fissa Una situazione di tantuccia, è una vera tua Io non sono nessuno per... Però stai zitto Ragazzi, fermiamoci subito perché c'è una cosa che subito salta all'occhio Tony è geloso di Jenny Ma questa gelosia è reale secondo il mio punto di vista oppure no? È assolutamente reale ragazzi Tony è veramente geloso di Jenny Ma non perché lui sia dannatamente innamorato di lei Piuttosto la considera quasi come l'oggetto dei suoi desideri Anche se non è l'unità, sembrerebbe Andiamo avanti Capisci Aspettati per il mio giubbino Grazie Grazie Non ti voglio vedere Lei la sta coprendo con il giubbino, gli dà un bacio sulla guancia Però mi deve anche ispirare quella certa fiducia E tu mi hai ispirato un po' di fiducia Ok ragazzi, stop Attenzione Non ho zitto Tony Allora, quando parliamo di fiducia Fiducia Parliamo comunque di un concetto che va ben oltre Quello che possiamo dare o avere da una persona nel raggio di 21 giorni Quindi parliamo di una fiducia finta in questo caso Proiettiamoci sempre come se fosse un film Perché fiducia, la fiducia è un qualcosa che va coltivato veramente negli anni Tony è abituato a vedere una ragazza che sta al posto suo Adesso lui è la prima volta forse che vede veramente Jenny interessata ad una relazione O comunque a relazionarsi con un altro ragazzo E magari il ragazzo in questione lo teme anche E quindi si sente f*****to fondamentalmente Vediamo quanto resterà f*****to Ti rendi conto quando sei bella, quando sei intelligente, quando sei tu Ma sta persona a te, nella tua vita Raga, l'espressione di Tony dice tutto Non posso come questo, dove ci sono mille telecamere Mi sento qui a casa Tutte? Sì Sì Io non ci credo da qui, pensa da vicino Io non ci credo nel posto Povera Jenny Ma come fa a credere al per sempre, che già il per sempre è veramente un qualcosa di molto molto astratto, no? Però come fai a credere al per sempre con una persona che non è in grado nemmeno di prometterti per stasera? Eh così lei può fare la paraculo con me, tanto non sono stato io E' lui Vedete? Cioè allora lui dice, lei fa la paraculo con me Dice tanto è stato lui Nella sua mente c'è questo preconcetto Che non è neanche un pregiudizio È proprio un preconcetto Cioè secondo la sua prospettiva Anche Jenny è interessato a fare quello che fa lui Cioè secondo il suo punto di vista Tutte le persone sono interessate a relazionarsi con altre persone Anche quando sono in coppia E quindi lui dice questa cosa è sbagliata Io ti difendo da un mondo pericoloso Ma in realtà non è vero Ti rendi conto quando sei bella, quando sei intelligente, quando sei dolce Ma sta persona a te, nella tua vita Aggiunge qualcosa o te lo leva? Oh Domanda da un milione di dollari Questa persona a te ti aggiunge o ti leva? Ragazzi ma Allora Immedesimiamoci in diretta nei personaggi Forza I ragazzi diventano Tony e le ragazze diventano Jenny Facciamo Sabrina vita da strega Allora raga Ma parliamoci chiaramente Ma secondo voi In una relazione C'è veramente Esiste solo il Che cosa mi puoi dare E basta Cioè ragazzi ma c'è anche dell'altro Adesso per carità La coppia in questione Ha dei problemi di coppia Super evidenti E su questo non ci piove Però ragazzi Ragazze Cioè vi voglio più Nel senso In una coppia non esiste Solamente il Che cosa mi può dare questa persona In una coppia La cosa fondamentale È l'amore e la passione È la cosa principale Poi dopo La persona può limare il suo comportamento Può limare il suo carattere Può venire incontro alle vostre esigenze Può darvi dieci Come può darvi un milione Queste sono tutte cose che vengono dopo Ma alla base Deve esserci l'innamoramento Cioè se non c'è questo Ma di che stiamo a parlare Quindi Il loro discorso Lo trovo completamente infondato Perché Jenny è Innamorata di Tony Raga è innamorata Quello che può darsi reciprocamente Una coppia È qualcosa che viene dopo Dopo intendo Dopo l'amore Cioè Perché dico questo Perché se non c'è l'amore Non possiamo pretendere Che l'amore arrivi Dopo dieci anni Che due persone Stanno insieme E si tradiscono a vicenda Spero di essere stato chiaro Raga Adesso non mi accusate Andiamo avanti E abbraccia E inizio subito da Jenny Ok Come sta andando Molto bene Sono contenta Mi sento finalmente felice Qui dentro E penso che possa continuare così anche fuori Mamma mia Cioè raga ma stiamo a scherzare Cioè in poche parole Jenny la sua l'ha detta Ragazzi Jenny la sua l'ha detta È fuori Cioè nel senso Lei sta bene senza di lui Ragazze Se vi guardate allo specchio E vedete il sorriso di Jenny Riflesso nei vostri occhi Nelle vostre labbra Mi raccomando Vuol dire che è la scelta giusta Quindi attenzione Mi fa piacere che la noti Vado diretto? Sì dai Ho un video per te Ah c'è un video per Jenny Vediamo quanto è stato male Tony È riuscito Un'ora E tre tira Innanzitutto complimenti alle ragazze Che stasera hanno degli outfit Veramente uno più bello dell'altro Comunque bando alle ciance Sto notando una cosa Che probabilmente Tony sta cercando di dimenticare I video che ha visto Ragazzi A chi piace la vita così A chi piace fare il DJ Stare a fare festa Party Tutte queste cose qua O ti trovi Una persona Che fa il tuo stesso lavoro E quindi può capirti Oppure ti devi trovare una persona Proprio open open mind Una persona che abbia una mente Apertissima Perché capisco Che comunque fare questa tipologia di lavoro Per forza di cose Ti porta in delle circostanze Che comunque voi o non vuoi Fai nuove conoscenze Vedi tantissime persone E per una persona impegnata Seriamente Non è Facile Intraprendere Ecco una relazione Con chi fa un lavoro del genere Adesso a priori Anche fuori da Temptation Ti manca Tony? A momenti sì Ragazzi ma Ancora emotivamente colpita Da ciò che ha visto al falò Jenny Si perde nei suoi pensieri No Anima fragile Di Pasco Rossi Mannaggia Bello e noca E tu Mi sono tu Ok ragazzi Fermatevi Perché se no qua Il caotico crolla Ragazza Secondo me Veramente Raga Cioè È incredibile Ha cambiato Il suo modo di fare Ha implementato Nei suoi pensieri Ha fatto un upgrade Cercando di Essere addirittura D'accordo Sul fatto Che lui facesse Un determinato lavoro Che lui facesse Una determinata vita Perché dice Io non lo voglio perdere Perché sono troppo innamorata E quindi non voglio perdere Questa persona Sacrifico tutto Pur di non perdere Questa persona Se arrivo a Non fare più le sfilate Non mettermi più Quei vestiti Non avere più Determinate amicizie Non andare più a ballare Eccetera eccetera Questa persona Non potrebbe mai Farmi del male Invece no ragazzi È proprio là Il tranello Che se una persona Non vuole farvi del male Se una persona Si fida di voi Non arriva a questo Una persona Che arriva a questo Vuol dire che Ha tantissimo Da nascondervi Tantissime cose Quindi ragazzi Veramente Mi dispiace un casino Veramente Ti sono vicino Jenny Veramente Capisco che è un film Però ragazzi Mi sono emozionato Pazienza Andiamo avanti Basta Perché più mi faceva passare per pazza Più gli davo fiducia Per non perderlo Ah vedete ragazzi Vedete Più mi faceva passare per pazza E più gli davo fiducia Per non perderlo Questo è quello che vi ho detto Un attimo fa Mamma mia Benedetta psicologia Ragazzi È quello che vi ho detto Un attimo fa Più vi sacrificate Più date Più Ma non perché non dovete essere buoni Perché dovete essere assolutamente Rispettose E rispettosi Nei confronti della persona che amate Però se la persona che amate Vi impone Determinate cose Vi dà delle regole della vita Dice che voi una cosa Non la dovete fare Quando in quello che voi fate Invece non c'è assolutamente Niente di male Vuol dire che quella persona Vi sta nascondendo qualcosa Al 99% Veramente E mi dispiace veramente Tanto che ci sia passata lei Perché veramente Vederla piangere così Non penso siano lacrime costruite Mi dispiace veramente tantissimo E non lo dico solo per la canzone di Vasco Arriva il falo dei ragazzi Perché oggi ho visto qualcosa che non mi aspettavo Quindi ti riferisci a un video Hai visto qualcosa che non ti aspettavi No ragazzi Io veramente inizio a temere Che qui possa esserci una doppia personalità Ovvero un disturbo dissociativo Dove coesistono due identità distinte Ovviamente nella stessa persona No vabbè Però penso che Ho sempre protetto Questa ragazza da tutto e da tutti No no Se sento questo No no Fermatemi raga No no Cioè veramente Mamma mia Questo deve stare bene con la testa Ma protetto da che cosa? Protetto da che cosa? Ragazzi ma Sta ragazza non ha bisogno di protezione Fortunatamente È sana e bella come il sole Non ha bisogno delle tue protezioni Capisco Se c'è dell'altro È libero La scelta è sua È certo Ti ha portato qui Scarica barile Quindi secondo te io ce l'ho un video? Secondo me sì Non ce l'ha un video Tony non lo dici Lo sapevo Lo sapevo perché Pausa Colpo di scena Sì colpo di scena Quale cazzo è un colpo di scena? Ragazzi non può avere un video Perché quando c'è dall'altra parte Una persona che sta soffrendo E che ha dato veramente tutta se stessa In una relazione Non esiste che tu a un certo punto sbrocchi Che cosa fa? Cioè che cosa si aspettava? Lui che era una gara Lei per fargliela pagare Si andava a mettere tra le braccia di un altro? Assolutamente no Lei dopo aver visto i suoi filmati È stata realmente male E quindi stare male Significa non avere voglia di stare con nessuno A differenza sua Perciò dico che secondo me In lui coesistono due identità Ma forse pure tre Prendiamo la ride Bene Passiamo a Raul e Martina In vera di ciò che sta provando il fidanzato Affronta l'ultimo falò Ma continua a non vedere immagini di Raul Io non riesco a vederla con una cosa positiva E per la prima volta Vedrà le immagini del suo fidanzato Raul Non proprio confortanti Ah Era ora Bravo Raul Ma lo stiamo facendo apposto Sì Aspettate un attimo ragazzi Scusate Abbiate pazienza Lasciatemi un like Se no io veramente Non ci riesco Allora Tutto così all'improvviso Ma certo mia cara Tutto così all'improvviso Fotocamera non cadere Perché se tu tiri troppo la corda Ma è normale che prima o poi la corda si spezza E dall'altra parte Non abbiamo Jenny che è la ragazza follemente innamorata Che ha rinunciato a tutto e tutti Per stare con te Blablabla Abbiamo un ragazzo A cui piaci Abbiamo un ragazzo Che ti ama Per carità Però abbiamo anche un ragazzo Che ti ha fatto capire In tutti i modi Quello che voleva capire Quello che voleva sapere E tu non hai fatto altro Giustamente Che fare La cattivella No? E per carità Poi Martina Ci arriviamo Perché pure Martina Ci stanno delle ragazze È un guaio Però Lui Onestamente Ha cercato di farle capire In tutti i modi Che ci tiene È vero che Il suo punto di vista È completamente errato È vero che La rabbia nei suoi confronti La rabbia del fatto Che lei pure Se mette il piede fuori dalla porta Oddio Mi ho finito il mondo È sbagliato Però adesso Non fare l'offesa Che lui si sta a fare due coccole Con una ragazza Perché comunque Tu lo hai fatto Quindi Pure se lo stesse facendo apposta Secondo me Sta comunque sbagliando Perché questo non si fa a priori Però Mi farei una domanda E mi darei una risposta Mi toglie le cattole dal naso E lei Ha fatto vedere dall'altra parte Che se ne è fregata a zero Di come potesse stare lui Anzi Lei ci è rimasta male Che non c'erano video Per lei Cioè Martina ci è rimasta male Adesso trovi un video E no Questo video è troppo esagerato Però Così mi fai fatica E non ti sta bene Niente La cosa sconvolgente È che lei ha detto Almeno tre o quattro volte Io con Carlo Non faccio così Io con Carlo Non faccio così Piuttosto che preoccuparti Del perché Il tuo fidanzato Si sta approcciando Ad una relazione Adesso Voi che lo stia facendo apposta Voi che sia una finta Voi che sia vero La tentatrice Gli sta rompendo le balle Al posto di riflettere Sul perché Raul Sta facendo questo Sta mettendo te stessa Al primo posto Sta dicendo Io con Raul Io con Carlo Non mi comporto così Quasi come se la stessi Mettendo lei Sulla sfida E questa è una cosa Che tendenzialmente Tende a nascere Quando di base C'è una passione blanda Poi lei Possa starci male Questo Non lo metto in dubbio Scusate Era Mi favore della schieretta Ripicca ce l'è Sì sì Ripicca sicuramente Io comunque Con Carlo Se ho fatto Determinate cose È perché Al primo giorno Ho sentito Un'intesa Che può essere mentale Perché non è che Manco ti rispetta Lui non ha mai nominato Questa ragazza Cioè non sto piangendo Di gelosia Perché questo è il problema Ragazzi Capito Lei ha confermato Quello che abbiamo detto Un attimo fa Lei ha appena detto Io non sto piangendo Di gelosia Questo significa Che la passione È finita Non c'è più Come on baby Vediamo cosa invece Raul vedrà di Martina Tu non hai un tatuaggio Guarda che ci hanno dato Tutto per quello Fermi Lei ha fatto Un qualcosa Che secondo me È il fatto dei tatuaggi Per ferirlo Perché comunque Raul è pieno di tatuaggi Quindi sicuramente In un qualche modo L'ha voluto ferire No? Un po' da alimentari Però Insomma ci può pure stare Ma la cosa assurda È che Raul In questo momento Diciamo che dei tatuaggi Se ne frega Non se ne frega Più che altro Raul sta guardando La situazione Con questo Carlo E non si sta mettendo avanti Dicendo io con la tentatrice Come faceva lei Io con Carlo Non sono arrivato a questo Io secondo me Da parte di Raul C'è ancora tantissima passione Nei confronti di Martina Con il mare no Come la muovi Ti rompe il cazzo Aia Mamma mia che nervi Mamma mia che nervi tesi Mamma mia Eh caro Raul Sti nervi Cerca di rilassarli Perché Non andiamo proprio bene La palla a B Scontato Questo veramente potrebbe essere Un attaccamento Ansioso Ambivalente Caratterizzato ovviamente Da insicurezza Paura dell'abbandono E nel suo caso Sfocia in rabbia Perché ha appunto Dei tratti caratteriali Una compilation Ma ribatto i record Io Dei pinnetti Vediamo invece Il farà di Raul Avvicinamenti Baci Sguardi Battute Cioè io entro qua Sicuro di queste cose Capito Mi sta smontando Delle cose Quindi non avevo dubbi Secondo te Ho un video O non ho un video Io penso di sì Sì Raul Ho un video per te Riprendiamo Così lo faccio vedere Pura a voi La parte più importante Mi stavo impappinando Il cervello Cercando di capire Come dire Quello che volevo dire Ragazzi Che Martina Ancora ha bisogno Della storia Del Solletico Se me lo fai Qui Mi dà fastidio E te lo dico Proprio perché voglio Che me lo fai Quindi Martina È ancora in una fase Che non è una cosa sbagliata Però è in una fase diversa Rispetto a quella lì di Raul Non è il mio tipo Non è il mio tipo esteticamente Non è il mio tipo di persona Cioè ha acciso Non è possibile che poi Ti sei innamorata Ti sei innamorata Delle cose che mi dà Delle sensazioni Della passione che c'è Allora Torniamo al discorso di prima E che lui è un boomerang Di passione E quindi lei si è fatta Trasportare da questa cosa Però Sarella mia Ma se tu A questo ragazzo Proprio Non ti dice niente Ma non dovevi nemmeno Venirci a Temptation Island Perché alla fine Che volevi capire Quello che già sai Bah Come finirà Tra Martina E Raul Lo scopriremo Nel prossimo episodio Nella penultima puntata Mi raccomando Tanti 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 Like E ragazzi Vi faccio un falò Da perdere la testa L'unica cosa Adesso Ci concentriamo Su Siria E Matteo Madonna Che manicomio Fantastico Manipare Le coppie di Temptation Island Ricominciamo Ricominciamo Vuol dire che lei Aveva proprio L'autostima Ad un livello Non zero Ma proprio Meno cento E' una cosa Veramente tristissima E sono contento Che si sia ripresa Così bene In giro Di su mano Una mi vestivo Come una nonna Proprio le gonne larghe Vestiti tutti larghi E magari io Se vedevo questa persona Magari che stava ridendo Che guardava nella mia direzione Mi immobilizzavo Non riuscivo più A muovermi da quel punto Quindi lui Magari mi prendeva E mi diceva Guarda che Non stanno ridendo di te E andiamo Però io proprio Ragazzi In questa relazione Veramente C'è una dinamica Talmente profonda Ma talmente profonda Che Basarsi solo Su Temptation Island Diventa difficile Veramente Proviamoci Che ha fatto un regalo Oh Gianni ha fatto un regalo A Siria E ti voglio vedere Se il video lo potete Non vorresti da lui Cambiasse qualcosa Uccisse di più Cambi Non cambia Lui è molto piatto Secondo me Ci manca più la play Che io E poi la cosa strana Sapete qual è no? E che in questa coppia C'è stato C'è stato il cambiamento Fisico no? Che tu prima stavi comunque Con una persona Che fisicamente Sicuramente Era diversa Da quella che è adesso La cosa strana E che Siria Non parla Di un cambiamento Dovuto al suo Cambiamento estetico Io mi sarei aspettato Non lo so Prima mi parlava sempre Poi da quando sono dimagrita Da un certo punto È cambiato Invece no Lei dice È stato sempre così E questa è una cosa Che non può essere vera C'è qualcosa che non va Ragazzi ci vanno a ballare Infatti te Non ti preoccupare Ci penso Ma va Sì sì Non male Sentila dire Che ha paura Di tornare da casa È forse per questo Quando io invece Ci vorrei tornare da casa Con le Tu qua Passiamo ora Alla coppia Che a me proprio Non mi piace Vittoria e Alex Faccio la valigia Ma anche prima Te la faccio fare La valigia Non puoi preoccupare No per me piace Questa cosa Che diciamo Ogni giorno Mi sta aiutando Non bello Sì No Sì Beh ragazzi Un'altra coppia Allo sfascio Temptation Island Non si gara Alex è l'unico Che bastardo Cavolo Che bastardo Ma l'è Ha ragione Gli ho detto L'unica cosa che non devi fare È fare le cose in assuoso Fammi vedere tutta la verità in faccia È un pezzo di me Ah lo sapete addirittura che fa Si copre il volto Per non far vedere Il movimento delle labbra Ma che Ma che voce fa Why Ahia raga Si mette male Adesso Al faro delle fidanzate Vediamo Che cosa vede Su Alex Eh Il problema che ti avevo detto Sto troppo bene Cioè sto bene io Sto molto bene Soltà Cavolo ragazzi Questo è soccorno Questo è soccorno Soltissimo io Sono di breve Di freddo Direttura Sì vabbè ragazzi Pure io sinceramente Stiamo in Sardegna Nel cuorquare di luglio E ragazzi Fa un freddo Pensate che la pelle Ne sa secca Tutta quanta così No Adesso col green screen Avrò fatto un casino Però dai su Trovane un'altra Di scusa Per farti abbracciare Anche tu tentatrice E da domani Punto zero Ok nel pinnetto Luca guarda Un video No A partire da zero Con lui Tanto vuole fare le stesse cose Ma Beh Jacob gli ha detto Che può dormire Con la sua maglia Ma come cazzo Rissana Dai pensa Ovviamente non sarebbe La stessa cosa Se non ci fossi Ragazzi Premetto che Io a questa coppia Non ci credo Ve l'ho detto Sin dalla prima volta Che le abbiamo analizzate Io a questa coppia Proprio Cioè sono attori In questo film Che girano male La loro parte Perché veramente Che interpretano male Perché veramente Non ci credo io Questa coppia Non mi riescono A trasmettere verità Magari mi ricrederò Vediamo un po' Non riesce a trasparire La verità Più che altro Cioè Diciamoglielo un'altra volta Io te lo dico davvero Col cuore Eh certo Perché sei tutto quello Che Anche al di fuori Eh Ti amore Mi piacerebbe comunque Mantenere Sì col capo Perché mi ascolti Perché mi accogli Ed è proprio bello Beh ragazzi Ha preso il suo fidanzato E l'ha sostituito Per farla un pochino Per estremizzare la cosa Beh ragazzi Gaia sta facendo Un bel percorso Sono contenta Di vedere anche Gaia Sì anch'io Mi piace da un voto Di buongiorno Di del mattino Ma dimmelo in faccia Dimmelo in faccia Mi hai sempre detto C***o Sei perfetto L'uomo della mia vita Oggi no Gli ho risposto no Non mi è mai successo C'hai un bel coraggio Eh Io sono venuto a vivere Con tua nonna C'è chi è che lo fa A 32 anni Una roba leggera Non è una cosa da escludere Quindi oggi vi confrontate Io non ho capito Io l'ho chiesto Ah Ha chiesto il follow di confronto Se io domani Mi rifare Ho una relazione Non voglio tradire più Mi è espresso alla produzione La volontà di poter richiedere Un follow di confronto anticipato Mi confermi questa cosa? Esatto Quindi vuoi che io vada A dirlo a Gaia Giusto? Sì Ok Ciao Fili Grazie E beh Ci sta Ci sta Giustamente ragazzi Dopo aver tradito tante volte Ci sta che uno impara la lezione Ci sta Ovviamente sto scherzando Seriamente Scherzando E come se volessero scrollarsi a vicenda La relazione di dosso Verrà o non verrà Cenerentola al ballo Ragazzi Secondo me Cenerentola Non si presenterà al ballo Non lo so Ho questa sensazione Però magari mi sbaglio Fatto sta che lo scopriremo solamente Nel prossimo episodio Vi chiedo già scusa Se ho pubblicato questo video Troppo tardi Ma ho avuto dei problemi E quindi l'ho girato Dopo un po' di giorni Però ho preferito fare subito Il fallo di confronto Tra Alessi e Alino Perché ci teniamo tantissimo Infatti l'ho fatto Praticamente il giorno dopo La puntata Vi invito a lasciarmi Veramente un bel like Per supportarmi Perché il canale Non riesce a crescere Quindi ho bisogno Veramente del vostro supporto Se lo fate vi ringrazio Veramente con tutto il cuore Ci vediamo nel prossimo video E io vi mando un bacione Grandissimo Fatemi sapere anche Nei commenti Cosa ne pensate Ciao